Due giorni prima della sua festa di compleanno stavamo disegnando e lei a un certo punto mentre disegna mi fa, dice mamma ma viene l'unicorno alla mia festa? In che senso? L'unicorno non ci ho pensato. E che è successo? Allora io non sapendo come uscirne dico, Ginevra ma credo che non esista. E lei, certo che non esiste mamma, c'è dentro una signora, chiama la signora, ti ricordi Peppa Pig? C'era dentro la signora, scusa la telefona, la signora. In questa puntata speciale di Mamma Dilettante devo dirvi che sono davvero molto molto felice perché è venuta a trovarmi la prima donna, ma soprattutto la prima mamma a capo del governo italiano, Giorgia Meloni. Buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera, grazie e buona festa della mamma a tutti. Esatto, buona festa della mamma, infatti oggi sarà una bella chiacchierata tra mamme, vorrei proprio conoscere mamma Giorgia e non la presidente Meloni. Ok, ci proviamo, ci proviamo. Possiamo darci del tu. Magari, certo. Ok, perfetto. Proprio perché vorrei partire da questo, il fatto che ho già la festa della mamma e vorrei sapere come festeggerai anche con Ginevra, se ti fa qualche regalo particolare. Allora sì, lei di solito ti fa dei biglietti molto strappacuore, diciamo così, però poi in cambio ti chiede una cosa tipo il giorno dei sì. Sì, noi abbiamo questa tradizione, ogni tanto io quando proprio la voglio premiare le dico domani è il giorno dei sì e quindi tu devi dire sì. Qualsiasi richiesta. Sono un girone tantesco, però è la festa della mamma. Se vuoi portarti qualche regalino da qui, dallo studio. Infatti adesso provo a ravanare qualcosa prima di andare, se non ti dispiace, insomma qualcosa mi porterei via. Però sì, insomma, ogni tanto cerco di ritagliare uno spazio che è solo suo. Esatto, anche perché io mi chiedevo ma come si fa ad organizzare tutto? Cioè nel senso io già solo per essere qui oggi, per aver spostato tutto questo progetto su Roma, ho dovuto organizzare babysitter, nonna, è tutto a posto, è tutto tranquillo. Però tu come fai con gli impegni istituzionali, le trasferte e la vita da mamma? Guarda, io chiaramente c'è una persona che sta con me da quando è praticamente nata a Ginevra, alla quale mi affido moltissimo. C'è il padre, i nonni un po' meno perché i suoi nonni paterni vivono a Milano, quindi difficile. C'è mia mamma, però insomma è una sola mente. E poi un sacco di amici, di mamme della classe, perché devo dire anche questo. Io ho trovato anche tanta solidarietà che è tipica secondo me tra le mamme e quindi non è neanche una questione diciamo di, come posso dire, adesione politica. Io non so che cosa votino molte delle mamme della classe di Ginevra, però fanno sempre del loro meglio per darmi una mano, sanno che magari io alle feste non posso andare perché sono sempre impegnata e quindi mi scrivono, vuoi che la porto io a Ginevra? Insomma c'è anche tante persone che ti danno una mano. Quindi ricordarsi tutto non è facile perché è la danza, è il nuoto, oggi a che ora esce, a che ora torna. Sai per me soprattutto quando lei esce da scuola, è un orario in cui io ci sono mai. Io credo di essere andata a prendere scuola a Ginevra tre volte, quattro, per lei è una grande festa quando io ci vado. Quando vai. E quello è l'orario un po' più difficile da organizzare perché ogni giorno ti devi ricordare di organizzarlo, però poi insomma lo si fa. È bellissima questa cosa del fatto che ci sia solidarietà tra le mamme, cioè anche io mi sto accorgendo proprio con questo progetto che in questo caso tra le mamme si riesce veramente a creare una rete bellissima anche di comunicazione, di aiuto. Guarda io penso questo, ho sempre pensato questo, che non è vera la solidarietà femminile, cioè le donne sono tra loro molto meno solidarie di quanto non dicano e secondo me è anche, come posso dire, se fossero vittime di questa specie di racconto per cui le donne non dovrebbero essere mai completamente all'altezza di competere con gli uomini e quindi questo le porta naturalmente a competere tra di loro, cioè una forma per cui non sempre ho visto e vedo la solidarietà femminile che invece, della quale pure tanto parliamo, no? Però tra mamme è tutta un'altra cosa. Le mamme sono solidari come lo sono i veterani al fronte, cioè gente che ha combattuto la guerra insieme, no? Quando finisce la guerra, perché è completamente un'altra dimensione di solidarietà, almeno io l'ho vissuta così, no? Io quando sono diventata madre, da quando sono diventata madre, qualsiasi cosa accada a chiunque, soprattutto ai più piccoli, soprattutto ai bambini, io penso alla madre. E anche in questo lavoro che faccio adesso, insomma, anche nel ruolo di presidente del Consiglio, alcune delle emozioni più belle che io ho, insomma, mi sono presa, che questo lavoro mi ha regalato, riguardava, riguardavano le mamme. Io ricordo quando ho telefonato alla mamma di Alessia Piperno, no? Di questa ragazza che era stata arrestata in Iran durante le manifestazioni delle donne contro il regime iraniano e c'era, insomma, situazione che abbiamo gestito in silenzio per riportare a casa questa ragazza. Quando lei è salita sull'aereo, io ero sicura che sarebbe tornata a casa, ho chiamato io la mamma per darle questa notizia. È stata una delle emozioni più straordinarie che mi potesse regalare questo lavoro. e molte sono legate, no, alle mamme, ma anche nelle cose, nelle difficoltà, nelle tragedie, io, non so, penso sempre alla mamma. E penso, all'inizio pensavo, dico, forse sono io, ma in realtà se si parla poi con le altre mamme siamo un po' tutte così. Quindi c'è una grandissima capacità anche di darsi una mano. Guarda, ripeto, anche le mamme della mia classe. Io, la classe delle elementari di Ginevra, sono riuscita a frequentarla molto meno di quanto non facessi con la classe della materna, perché chiaramente è capitato proprio insieme, no? Io sono diventata presidente del Consiglio quando Ginevra iniziava la prima elementare e quindi non ho partecipato alle feste. Sto nella chat, però al suo anno non riesco a frequentarle quasi mai. Sei nella chat, rispondi qualche volta? Certo, certo, sto nella chat, commento, faccio, dico la mia, voto quando mettono le votazioni. Sì, sì, no, partecipo quando posso, partecipo. Beh, insomma, faccio la mamma. E certo. E quindi, diciamo, non ho con loro, con molte di loro, lo stesso rapporto che magari avevo con le mamme della classe precedente. Eppure, guarda, ce la mettono tutta e non perché io sia il presidente del Consiglio. Lo fanno anche tra di loro. Sanno che chiaramente il mio impegno è... Lo vedono. E guarda, ogni volta, l'altra volta, facevano il copia e incolla per scrivere chi avrebbe partecipato alla festa di un bambino. e io faccio il copia e incolla perché si scrive, fai conto, Ginevra più un adulto, due adulti. E io scrivo Ginevra con qualcuno. Perché non lo sapevo. E mi hanno scritto, credo, in quattro o cinque per dire, guarda, non ti preoccupare, ci penso io. Amore, questa è una cosa molto bella. È bello, sì. Che la maternità ti regala. Ti regala anche la vera solidarietà tra donne. Quindi ti ha cambiato un po' diventare mamma? Sì, ma ha cambiato moltissimo. Ti ha migliorato. Assolutamente. Assolutamente. Io credo che la maternità ti dia alcune cose che sono estremamente importanti nella vita. Dare valore al tempo. Guarda, questa è una cosa che diceva, molto bella, che diceva Seneca, tra i primi, che hanno, diciamo, riflettuto, no? Sul tema di quanto le persone capiscano il valore del tempo. Seneca diceva, noi non consentiamo che ci vengano rubate cose che potremmo riavere mille volte, ma consentiamo con estrema facilità che ci si rubi l'unica cosa che nessuno può restituirci, che è il tempo. E quindi faceva tutto un ragionamento su come devi usare il tuo tempo. Questa è una cosa che io ho capito quando sono diventata madre. Ottimizzare il tempo perché alla fine tutto il tempo che io perdo è soprattutto tempo tolto a lei. Certo. Quindi ti regala questa dimensione, ti regala una capacità di rimettere in fila le priorità nella tua vita, nella tua esistenza. Quello che è veramente importante è quello che non lo è, no? La maternità ti regala la forma di amore più alta possibile e la paura più drammatica possibile. E nel fare questo chiaramente rimette a posto tutto il resto. Cose che a te mettevano l'ansia quando diventi madre dici, vabbè, dai. Si fa, no? Cioè alla fine torni a casa, lei sta bene e dici, ok, il resto lo gestisco, no? E quindi ti aiuta ad avere una consapevolezza e un coraggio nel fare tutto il resto che sono straordinari. Per cui sì, è una cosa che mi ha dato moltissima stabilità, esatto, che mi ha centrato. Sei diventata ancora più pragmatica, quindi. Assolutamente. Più pragmatica, più concreta, più realista, più attenta alle cose che hanno davvero un senso, no? Certo. Sì, cioè a non dare il peso. Quasi io sono anche una persona sempre molto che se non sono mai contenta, devo fare... Anche con tutta l'ansia che questo comporta, no? Sono stata anche una persona ansiosa a differenza di quello che magari può sembrare, no? No. L'ansia adesso sì, ma completamente su un altro mondo. Tutto il resto, bene o male, pensi... Sì, una soluzione si trova. Infatti si vede che sei una donna forte. Questo è... Sono una donna costretta. Costretta. Sì, però poi è bello questa cosa che dici tu sulla maternità perché alla fine tira fuori delle tue fragilità che magari neanche sapevi di avere. Tira fuori tutte le tue fragilità e le mette a posto. Allora, io penso che diciamo uno degli elementi grandi della... Diciamo in cui la maternità cambia completamente la prospettiva della tua vita è che in fondo ti rendi conto che non sei tu più il baricentro. Il baricentro diventa naturalmente comunque un'altra persona e non ti toglie niente questo però, non è che vuol dire che dedichi meno a te stesso e che dai molto più valore a quello che fai quindi dai più valore anche a te stesso. Poi ripeto io che non ho mai avuto paura di morire quando sono diventata madre mi sono posta il problema oh ma non posso morire. Anche a me è successa questa cosa. Cioè sai poi quando sei mediamente giovane poi man mano che andremo avanti uno ci fa hai un approccio più consapevole anche col tema della morte ma quando sei giovane no. A me è proprio successa una situazione di pericolo e per la prima volta ho detto è mia figlia? Eh non posso però vedi tu non hai pensato muoio tu hai pensato è mia figlia e quindi il baricentro non sei più tu però questo dà il valore a quello che tu sei cioè ti aiuta sai noi la felicità in realtà tutto quello che noi costruiamo è sempre in rapporto agli altri cioè questo non so se hai mai visto il film Into the Wild no? Sì. Quando lui sta per morire a un certo punto scrive happiness has to be shared cioè la felicità deve essere condivisa tutte le cose belle che tu vedi non hanno lo stesso valore se non puoi farle vedere a qualcun altro no? E quindi sta in questa dimensione qui cioè essendo il valore che tu hai anche in rapporto agli altri e soprattutto noi non ce ne rendiamo conto ma questo è il valore del rapporto che questo ha per una persona che ami così tanto come tuo figlio è una cosa che ti regala le emozioni più grandi che la vita ti possa regalare è questo che non capisci della maternità se non lo vivi no? Io penso che la cosa che alla fine mi sono sempre interrogata su questo alla fine dei nostri giorni quando arriverà alla fine di questo percorso io penso che noi ricorderemo solamente davvero quei pochi tanti momenti questo è soggettivo in cui ti è battuto veramente il cuore no? Le emozioni sono l'unica cosa che io sai quando si dice quando stai per morire rivedi il film della tua vita ma il film della tua vita in qualche secondo non lo puoi rivedere io ho sempre pensato rivedi 5, 10, 20, 30 non lo so quanti sono quando ti è veramente battuto il cuore e tu quali rivedresti? Eh guarda il punto è che nella maternità c'è una cosa straordinaria che a te può battere il cuore fortissimo per la cosa più banale è vero no? Cioè allora tu già hai fatto il più grande risultato della mia vita ci hai messo anni il più grande amore della mia vita con tutto quello che comporta nel bene nel male poi ti estruggi eccetera e poi invece io ricordo adesso ho una cosa stupida di mia figlia ma piccola piccola un anno e mezzo avrà avuto ce l'avevo in braccio giornata tremenda torno a casa la prendo in braccio ma sai quelle giornate che proprio è andato tutto e non so perché ma guarda incredibile lei a un certo punto stava in braccio a me mi guarda con una faccia quasi compassionevole davvero e mi fa una carezza bambina di un anno eh non lo so magari me lo sono no magari ti sei fatto il film eh non è vero perché magari c'è una connessione ma come se lei avesse capito mamma non ti preoccupare e questa cosa mi ha regalato un'emozione una cosa incredibile incredibile e niente eh una carezza però la maternità è così la frase giusta al momento giusto ti scrive un biglietto ti dice una cosa o ti fa ridere sì mia figlia dice delle cose che forse alzare dalle risate sì ricordo delle scene di Ginevra che ogni tanto ci ripensi e davvero ti svolta la giornata no poi c'è anche la giornata che ti può intristire perché poi i bambini sono anche no ti dice la ti dice la frase sbagliata tu non ci sei mai il cuore come una nocciolina sì ecco io sono a quella fase lì e lei ha otto mesi e non parla quindi peggiorerà i sensi di colpa adesso peggiorerà molto sì tu come li gestisci i sensi di colpa? i sensi di colpa non li gestisci i sensi di colpa ti rimangono il problema è che il problema è che il senso di colpa è tremendamente diseducativo perché tu tendi a diciamo così a tentare di superare il tuo senso di colpa facendo l'unica cosa che non devi fare assecondando cioè il senso di colpa ti impedisce quasi sempre di dire no è la cosa più diseducativa che puoi fare per un figlio temo lo dico perché io non sono brava a dire no a Ginevra perché mi sento in colpa e penso che alla fine quando lei per farlo cioè per dire ci sono io dico sì va bene c'è la giornata del sì la giornata esatto si ricollega pur sapendo che è la cosa più sbagliata che puoi fare però quello è un problema legato al senso di colpa e alla fine quando già ti senti in colpa non riesci a gestire più di tanto il fatto che dici no Ginevra e lei ti guarda con sti occhioni perché ti sembra di farle ancora del male perché parti dal presupposto che le stai facendo del male con l'assenza eccetera quindi quello è un problema perché io in teoria lo so che la cosa più educativa che puoi fare per un figlio è dire no però poi non sono brava a farlo nella pratica sono un po' diciamo la teoria vado meglio poi ti capisco ti capisco comunque ancora non sono in quella fase però posso comprendere il problema sai finché loro non parlano è sì lo vivi il senso di colpa quando te lo cominciano ogni tanto a dire a dimostrare e lo sanno fare lo sanno anche usare come posso dire quando proprio quando ti vogliono colpire lo sanno fare guarda che posso pure essere una sfortuna perché perché vedi io mi do poche regole con Ginevra no ho la regola che cerco di metterla a dormire io perché lei guarda supporta tutto però quando deve andare a dormire ci devo stare io infatti io me la porto in giro quando parto sto più di una notte fuori lei se mi vede con una valigia esce pazza ma io con chi d'oro con chi mi addormento no io quello è il suo cioè è proprio il suo momento se le togli quello lei lo vive come un tradimento e l'altra regola banale che mi sono data è le recite le cose no cioè costi quel che costi ci devi essere bene saggio di danza di Ginevra lo sai che giorno l'hanno piazzato? che giorno? il primo giorno del G7 ecco l'unica cosa in un anno che io non potevo spostare è stato un inferno e sarà un inferno ma quando glielo ho dovuto dire perché glielo ho detto subito ah là sei stata subito sono stata onesta in meia successo ecco quelli sono i momenti che proprio dici senso di colpo e butteresti di sotto dal balcone poi si gestisce in qualche modo però la porti con te qualche volta detto si la porto con me ma da sempre da quando è piccolina o anche da sempre guarda io ho messo Ginevra sul primo treno che aveva dodici giorni Roma Milano aerea i treni tutto si adesso la porto soprattutto quando faccio i viaggi un po' lunghi no? due giorni tre giorni un po' per questo fatto appunto che poi se no lei la notte due notti non le regge finché vado un giorno fuori sì anche se la devi gestire dopodiché proprio lo vive proprio come un tradimento una cattiveria e poi sono contenta perché vabbè anche perché perché all'estero quando vai all'estero eccetera in quella dimensione lì è più facile anche farle vedere che lavoro fai perché in Italia sai corri da una parte all'altra diventa tutto e allora cerco di farle capire no? poi non so quanto lei lo colga ancora però è come se cercassi di dirle guarda amore che è importante il lavoro che mamma fa per tante persone no? e spero che prima o poi questo possa non farmi detestare perché poi il dubbio mi viene che poi possa no? crescere pensando mia madre per me non c'è stata come c'erano le altre mamme adesso delle volte lei te lo dice le altre bambine lo sono sempre con la mamma e io mai no? certo allora tante mamme mi dicono ma guarda che non ti preoccupare perché lo capiscono lo capiranno vedrà eccetera però sei attaccata alla speranza che capisca è capito esatto sono queste cose tipo che ti dicono dai non ti preoccupare ma invece è un bellissimo esempio secondo me cioè sei l'esempio proprio che raggiungere questo traguardo dell'essere madre è bellissimo ma questo non significa rinunciare no certo al proprio lavoro al proprio mestiere ai propri obiettivi lo si può fare cioè nel senso sì con tutte le mancanze con tutte le difficoltà Ginevra una bambina felice insomma una bambina serena una bambina felice io a parlare con la maestra che cerco di capire mi dicono guardi una bambina felice una bambina che è legatissima a me quindi del resto io sono cresciuta con una madre che non era così presente no e alla fine le devo tutto anche nella sua assenza che era anche nel caso di mia madre che è stata molto più scaltra di me in questo una assenza calcolata cioè mia madre è stata una madre che ha cresciuto le figlie dicendo te la devi cavare ti diceva guarda la tua libertà è legata alla tua responsabilità vuoi essere libera vuoi essere una persona indipendente dimostrami che sei in grado di essere una persona indipendente e quindi non era la mamma chioccia no che sarei io se non avessi tutto il lavoro che ho da fare no che ti risolvo ti preoccupi ci penso io no mia madre era l'esatto contrario ti rivede adesso un po' in lei no purtroppo perché io diciamo la mia assenza è costretta certo la sua era calcolata cioè era una madre presente però non era una madre che ti risolveva i problemi i problemi dovevi risolvere da sua e se io sono cresciuta la persona che sono cioè una persona che se la deve cavare lo devo a mia madre e quindi sai vorrei essere come è stata mia madre con Ginevra poi lo sono diciamo per altre ragioni ma non per indole e non per capacità ecco perché io quando invece posso cioè mi metto lì no sono di quelli che capito sotto banco il compito non ha finito capito no queste cose patetiche capito che gli cerchi di dare una mano in tutto pure troppo che poi li devasta però ma l'istinto materno lo hai sempre avuto o no no non posso dire di averlo sempre avuto anzi guarda io come molte donne ti dico la verità molte donne della nostra generazione questo fatto un po' che noi siamo portati a considerarci sempre giovani no e alla fine pensiamo vabbè ma poi 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 prima devo fare prima devo fare prima devo fare poi ho fatto Ginevra che avevo 39 anni e non ero più giovane e quando ho capito il valore che questo aveva dato alla mia vita avrei voluto poter tornare indietro e ok fermi perché comunque questa cosa e questo questo è un gran tema perché io ho visto anche molte mie amiche insomma che appunto sì sì poi 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 e poi non si poteva più e poi non si poteva più e magari poi lo rimpiangi allora su questo forse l'informazione sarebbe una cosa utile cioè da offrire tutti gli elementi a ciascuna per scegliere per scegliere quando per scegliere se però per farlo in piena consapevolezza e quella consapevolezza a volte noi non l'abbiamo io non ce l'avevo per cui ho pensato ma sì poi c'è tempo faremo e poi quando ho tentato di fare il secondo non eh non c'era più tempo e Ginevra voleva una sorellina o un fratellino sì Ginevra voleva una sorellina ma non ci si è particolarmente legata a questa idea no no io volevo una sorellina per lei un fratellino perché io sono legatissima a mia sorella legatissima e so che valore ha questo nella vita e mi dispiace da morire che lei cresca figlia unica mi dispiace un sacco per cui ho tentato più per lei che diciamo per me no proprio perché ci tenevo per lei e poi vabbè è andata così sei legatissima a tua sorella tant'è che nel tuo libro dici che è l'unica con cui è piacere a parlare al telefono sì io ho un'idiosincrasia per le telefonate ormai piuttosto scrivo ma se posso evitare di telefonare telefono è l'unica persona a quale io telefono per chiacchiare un po' anche mia madre ogni tanto però sì l'unica persona che poi quando non la sento per qualche giorno hai bisogno di la chiamo è mia sorella adesso devo dire di meno perché poi non c'ho veramente mai tempo però mi ricordo per esempio quando correvo c'è un periodo che correvo la mattina in un'altra vita e la chiamavo e stavo nuora al telefono mentre correvo a parlare adesso quando riesco magari quando torno a casa la sera in macchina ma com'è la gestione del tuo telefono in questo momento cioè la tua to do list di cose da fare mi ricordo quando ti ho mandato il messaggio e ho detto boh chissà se lo leggerà mai eh no guarda su questo tutte le persone che lavorano con me ti parlerebbero ore perché io ho lo stesso numero di telefono da più o meno dal 1998 ed è sempre quello ancora e ce l'hanno tutti intanto mi chiamano per chiedermi il numero di Patrizia i miei collaboratori capito gente che ti chiede le peggio cose io tendenzialmente rispondo questo è un problema di gestione del tempo quest'anno per la prima volta non sono riuscita a rispondere agli auguri di Natale ecco che è un'altra di quelle cose che io ho sempre fatto no prendo metto lì ci metto mesi ma rispondo quest'anno non sono riuscita non ce le hai fatte no adesso è troppo tardi rispondere sulla botta dei 3.000 messaggi non ce l'ho fatta però delle volte ho un problema perché perché non cambi numero ci sei affezionata a questo perché perché guarda mi scrivono persone che io non so chi siano eccetera è una finestra sul mondo e non la voglio perdere perché tra le mille cose alcune surreali che ti arrivano o insomma persone che condividono guarda stiamo facendo ti mandano le loro foto eccetera ci sono un sacco di spunti interessanti c'è l'umore le critiche cioè ti aiuta lo usi come metro quasi lo uso come finestra aperta sulla normalità perché la normalità in questa vita qui non è una cosa facilissima poi anche questo in realtà è un po' sbagliato nel senso che tante volte mi sono resa conto che la mia come posso dirti io sono una persona immediata mi scrivi una cosa ti rispondo e delle volte te lo usano contro sai quante volte a me tornano gli screenshot dei messaggi che ho mandato perché si sbagliano e me li rimandano a me sì per cui magari ha dei profili diciamo che alcuni dicono ma non è proprio una cosa sicurissima non sai con chi parli però senti un giorno un giorno cercano di convincere i miei danni a fare questa cosa vediamo invece Ginevra quindi è praticamente la piccola della famiglia che è una famiglia matriarcale la tua ma anche la piccola nello staff in cui lavori perché ci sono tante donne tante donne sì tante donne ma anche tanti uomini in questo io non sono selettiva sicuramente ci sono varie persone che sono molto preziose nel mio lavoro e nella mia vita che sono delle donne e che sono alcune tra le più longeve persone con le quali lavoro io trovo che le donne abbiano un'altra da questo beh concretezza velocità sì è legata a quel tema del tempo che dicevamo prima del rapporto col tempo però ci sono anche tanti uomini con i quali io lavoro molto bene per cui devo dire non sono in questo selettiva mi piace molto lavorare con le donne perché sì sai io trovo gli uomini e le riunioni parliamo raga quindi e dai ecco e prima che iniziavamo a fare questa chiacchierata mi hai detto ti voglio dire una cosa molto bella che è un insegnamento che mi ha dato il mio pediatra sì in realtà non è stato il mio pediatra no perché parlavamo dell'allattamento perché guarda allora io ricordo questa cosa della maternità quando Ginevra è nata chiunque ti avrebbe detto una cosa diversa allattamento e quello ti diceva allattamento a orario quell'altro diceva no allattamento a richiesta allattamento esclusivo no allattamento devi dare la giunta e tu esci pazzo io mi ricordo che a un certo punto proprio i primi giorni perché poi stavo da sola i primi giorni perché Andrea era a Milano non avevo la tata mi sono trovata le prime settimane con una bambina che piangeva tutto il tempo insomma è stato un po' no complesso poi sai all'inizio quando piange non so se ti avrà fatto la stessa cosa cioè tu le prime volte senti miangere tuo figlio sei nel panico totale oh Dio che devo fare e no ecco e quindi ognuno ti diceva una cosa no devi fare così e un giorno ho proprio pensato raga ma c'è due che ti dicono la stessa cosa perché così veramente non si riesce e poi mi sono ricordata che quando io ho partorito ho partorito al San Camillo Fornalini qui a Roma il pediatra che mi visitò in uscita che poi non fu il mio pediatra però mi disse la cosa più preziosa che mi abbia detto un pediatra mi ha detto guardi le diranno di tutto lei segua il suo istinto perché le madri lo sanno e è verissimo posso dirti è verissimo io ricordo mia sorella che quando era piccola la sua figlia grande lei ha due figli adolescenti adesso Vittoria la grande a un certo punto aveva la febbre e lei decide la voglio portare al bambino Gesù e io pensai al bambino Gesù c'ha la febbre che vai al pronto soccorso per la febbre vabbè dico ti accompagno andiamo al bambino Gesù stiamo lì un pochino in sala d'attesa poi prendono questa bambina per visitarla e in quel momento la bambina ha una crisi epilettica disidratata aveva questo virus per il quale vabbè insomma che c'è il vaccino è il rotavirus lo sapeva lei lo sapeva lei lo sapeva una cosa pazzesca e mi è rivenuta in mente questa cosa qui quindi se io dovessi dare un consiglio alle madri per come poi alla fine quando il tuo istinto lo dice seguilo seguilo del resto ripeto sarà capitato a molte mamme che ci ascoltano io rimasi molto colpita quando Ginevra è nata dal fatto che quando lei piangeva appena nata io mi ricordo questa immagine guarda io ero in un'altra stanza lei dormiva si sveglia piange lei piange e tu senti il latte che ti tira al seno la natura in questa è una cosa addio una cosa straordinaria e quindi quel legame probabilmente arriva tu sai che cosa serve per cui l'istinto secondo me va sempre eseguito ed è vero che una volta un medico ti ha consigliato di ballare come medicina quello me l'ha consigliato per la leggerezza indipende dal tema della mia figlia questa era prima che diventassi madre sì un medico mi disse un periodo un po' ecco sempre complesso e questo mi fa tutta sta visita ma non era uno psicologo era un medico proprio mi dice senta ho una terapia per lei mi dico ah bene mi dica dovrebbe ballare dico prego lei ha bisogno di un po' di leggerezza si lasci andare balli capite è un po' così che è vero però è vero però io sono una persona molto leggera ti capita un po' sono stata anche costretta a non essere una persona troppo ma non lo sono di formazione capricorno una persona un po' rigida ti capita di ballare con Ginevra a casa magari sì 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 con Ginevra balliamo balliamo lei sa tutte le canzoni di tutto una cosa incredibile incredibile balla si mette i pattini dentro casa fa le capriole le ruote le spaccate infatti voglio mandare a ginnastica perché secondo me che sport fa a Ginevra lei adesso fa danza e fa pallavolo mia grande passione da adolescente ma l'ha voluta fare lei io penso che i figli non li devi costringere a fare uno sport nello speciale io sono stata costretta a fare nuoto facevo preagonismo di nuoto lo ricordo come l'incubo ho odiato il nuoto tutta la vita anche se so nuotare bene io ho odiato il nuoto tutta la vita se li costringi alla fine non riesci a farli appassionare invece lo sport è fondamentale per tante cose come sappiamo e quindi se li riesci a far appassionare fa la differenza a me piaceva tantissimo la pallavolo ma ero scarsa e quindi mi è rimasta questa cosa sono stata felicissima che poi lei ha anche un po' più d'altezza e si sta piano piano però io la vedo che lei fa tutte queste ruote le verticali le spaccate eccetera e ho pensato forse alla ginnastica ginnastica artistica ginnastica ritmica ginnastica si può appassionare molto di più e ne sarei entusiasta perché poi la disciplina il senso la dimensione no del sacrificio che ti regala lo sport è fondamentale particolarmente per questa generazione è vero che è proprio trascinata questo mondo i social i telefoni i telefonini ti spaventa un po' la preadolescenza l'adolescenza di Ginevra mi spaventa il fatto di letta che noi siamo la prima generazione di genitori che crescono figli completamente digitali senza aver vissuto quella dimensione la verità è che noi non siamo attrezzati per capire che cosa sta succedendo perché ben o male prima no le tue esperienze di bambino di ragazzo di adolescente ti aiutavano anche a capire cosa sarebbe potuto accadere adesso non è così tu non ci arrivi mai a quello che può succedere e noi non siamo secondo me non stiamo neanche calcolando i rischi proprio legati alla personalità legati oggi leggevo per esempio un articolo di stampa che parlava di questo psicologo famosissimo che dice che i social stanno devastando proprio la mente le capacità cognitive la verità è che non lo sappiamo noi oggi non ci rendiamo conto ma è da una parte quasi impossibile fermarlo nel senso che loro sono tutti così a me spaventa io ho visto delle volte in questo caso non magari tanto Ginevra ma delle volte anche Ginevra ma i ragazzi un pochino più grandi loro ormai sono in quattro dentro una stanza e non si parlano cioè si stanno parlando ma col filtro del telefono in questo è stato devastante il covid cioè il covid ha moltiplicato quel filtro le lezioni a distanza eccetera che succede quando tu hai un filtro e non devi guardare qualcuno negli occhi per dirgli una cosa bella o per dirgli una cosa brutta finirai sempre per chiuderti sempre di più perché ci vuole molto meno coraggio a scrivere attraverso il telefono il messaggio eccetera di quanto però ti toglie la dimensione reale umana reale e secondo me noi non stiamo calcolando e non siamo in grado di calcolare dove questo ci porterà e siamo l'unica generazione che avrà questo problema perché i nostri figli bene o male una parte di questo vissuto lo avranno noi non ce lo abbiamo e questa cosa mi preoccupa tantissimo ma Ginevra ce l'ha il telefono? Ginevra sta lì proprio il tablet i video TikTok come tutti come tutti nella sua generazione delle volte anche chiama le sue amichette a casa mamma mi dai il telefono no amore non tu lo dà il telefono però non lo fermi sono tutti così e quindi diventa proprio difficile qua mi viene in mente una cosa perché tu dici che sei appassionata del Signore degli Anelli perché si capisce la differenza tra il bene e il male non leggi mai questo non glielo ho ancora letto non glielo ho ancora letto perché secondo me non è ancora il momento nel senso il Signore degli Anelli è visto come un fantasy ma non è un fantasy il Signore degli Anelli è un libro allegorico è una grande metafora su tutto quello che ha un senso secondo me non è un libro che devi rischiare di leggere appunto vedendolo come un fumettone e quindi secondo me bisogna aspettare l'età giù io l'ho letto a 11 anni il Signore degli Anelli mia madre questo ecco è un'altra grande cosa che mi ha regalato mia madre è una grandissima lettrice per cui io ho passato l'infanzia a leggere solo i più grandi i best seller perché lei l'aveva già letti tutti e quindi ti diceva questo è quello più bello di Wilbur Smith questo è quello più bello di Stephen King questo è il Signore Ianelli eccetera faceva le recensioni giuste faceva le recensioni ancora me le fa ancora me le fa a me quando mi chiama mia madre mi dice Giorgia devi leggere sto libro io tendenzialmente ormai non ho più il tempo di leggere però quando vado in vacanza per me la vacanza mi compro un romanzo no e con Ginevra siamo ancora unicorni a lei adesso mi legge prima gliele leggevo io le favole adesso me le legge lei a me prima di andare a dormire ma sono molto contenta che anche lei si stia appassionando alla lettura però c'è un tempo giusto per ogni cosa quindi si arriverà il momento che il Signore Ianelli glielo appioppo però sai il Signore Ianelli ha anche un tomo di 1200 pagine certo siete presenti da un bambino di 7 anni con quella roba lì quindi piano piano poi gli compro la versione quella che ogni capitolo è un libro diverso così io lo faccio sembrare che è più piccolo e poi escono gli altri prima di salutarci c'è la bol con le domande scopode ti chiedo di prenderne una vado non ho presi due addirittura sempre a passi del mare allora Ginevra Ginevra vuole una festa di compleanno unica cosa ti inventi di lei arrivi tardi Ginevra ha voluto le feste di compleanno allora Ginevra ha le idee chiarissime sulla sua festa di compleanno per cui non c'è il margine di organizzare una cosa lei ti dice circa 6-7 mesi prima il tema della sua festa di compleanno ti dice come la vuole ti dice deve essere perfetta lei comincia a parlare della sua festa di compleanno dal giorno dopo della sua festa di compleanno quindi è il tempo di organizzare è un anno a organizzare la festa di compleanno e oggettivamente io cerco di fare il mio meglio facciamo il nostro ma lei proprio c'ha le idee chiare guarda io mi ricordo questa scena che mi divertì da morire credo che fosse la festa di compleanno per i suoi 4 anni lei è di settembre per cui arrivava la festa di compleanno il tema era unicorno tema unicorno io avevo un campagna elettorale tanto per cambiare per cominciare e stavamo lì a un certo punto due giorni prima della sua festa di compleanno stavamo disegnando e noi avevamo organizzato tutto io Patrizia e lei a un certo punto mentre disegna mi fa dice mamma ma viene l'unicorno alla mia festa? in che senso? unicorno non ci ho pensato e che è successo? allora io non sapendo come uscirne dico Ginevra ma credo che non esista e lei certo che non esiste mamma c'è dentro una signora chiama la signora ti ricordi Peppa Pig c'era dentro la signora scusa la signora niente ma sì sì e quindi a 4 anni Ginevra mi ha risposto così mamma ma certo che non esiste c'è dentro la signora e ti ricordi Peppa Pig chiama la signora e quindi hai chiamato la signora e quindi ho dovuto trovare l'unicorno ho dovuto trovare l'unicorno a 48 ore ti somiglia a Ginevra però un po' mi somiglia in alcune cose sì in alcune cose sì anche se non devo dire che non è una non mi somiglia come bambina nel senso che io ero una bambina molto cupa pesante e invece lei è molto solare una bambina soscevole solare ride è leggera in questo no siamo molto diverse però è una bambina molto intelligente è una bambina anche furba ecco in queste cose e boh non lo so spero che mi somigli in alcune cose spero che non mi somigli in altre in che cosa speri che non ti somigli in questi tratti alcuni tratti del mio carattere che insomma io avrei preferito non avere anche se poi fanno parte di tutto perché però sì io un po' più di ballo esatto un po' più di ballo lei balla molto più di me e questo è un bene siamo arrivate quasi alla fine di questa chiacchierata Giorgia e quindi ti chiedo visto che la festa della mamma un regalo per tutte le mamme ma soprattutto per tutti i figli visto che un regalo intendi un regalo un messaggio un mantra che tu vuoi vuoi lasciare loro secondo me un mantra che va lasciato ai figli è che nella vita non esistono le scorciatoie quando pensi che c'è una scorciatoia per arrivare dove vuoi arrivare hai già fallito perché scorciatoia non esiste non devi puntare il successo devi puntare il lavoro perché l'unica cosa che può portarti a qualsiasi forma di successo è il lavoro se pensi che puoi saltare quel lavoro per arrivare al successo il successo non arriva e se arriva è effimero il cammino è il bello non è la meta è il cammino che ti forma e se tu non fai quel cammino non sei neanche in grado di gestire la meta grazie mille Giorgia buona festa della mamma buona festa della mamma grazie